ma no ma vengo da sola allora seguimi c'ho anche lo segnetto così sta proprio davanti chiuditi no c'avevo la scritta no ma non lo seguo ok done non ti vedo più dove sei? mi sono persa ho sentito un bambino piangere ma chi è quella? ah ok si ti vedo dai cammino piano proprio a passo 2 dice se è andato troppo veloce però non mi aspetti neanche eccomi adesso dai andiamo muoviti non mi disposto taré tu voglio lei perci? va mi appartenda va mi appartenda non mi parevo da sola Allora cammino, passo di donna Otro vato non è sia mamma oh c'è una macchina mi stava investendo dove? dove? ah ok che bello che sto facendo ma che è questa con le sparre? con le pistole ma vai via da questo parco hai paura? hai paura? hai tu? hai la sua fantasia? ah la sua fantasia ah non pensai ti devo dire una cosa mi fai paura ma non è corretto di scrivere ma non è corretto di scrivere io la gente ma oh dove sei? sono su un trampolino ah ok vieni qui tu aspetta fermati allele blu andiamo insieme uno due tre vieni ah aiuto e risaltiamo basta mi sono rotta le scatole mamma vieni sull'altalena dai oh guarda ho fatto la tripletta mamma dove sei? non ti trovo io ho fatto una tripletta ma ne sono andata quasi dentro il fiume mamma andiamo ti faccio vedere un po' questo è il parco ok? si lo sto vedendo non sono cercata vieni vado sull'altalena oh mamma mamma cemina c'è ma idea c'è ma idea c'è ma idea cosa c'è? me ne ho vado dal server ma perché? cosa stavo uscendo? guarda ma perché? aspetta facciamo il parco insieme mamma il parco scendi dall'altalena vieni momenti mi ammasso sono qua il parco cos'è? hai avuto paura? vieni vieni facciamo questo qua facciamo questo qua ma dove siamo? oh mamma asco io allora vedi sono uscita entra qui dentro che facciamo il parco insieme allora ti faccio un pezzetto io ti sto facendo un pezzetto io ok? adesso sono uscita la 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 oh dio ma io devo fare sta roba vado eh? si vai andiamo insieme adesso faccio questo dammi buttare per terra poi faccio questo aiuto ma dove sono? sono tornata indietro ma che barba ma dove è qua? siamo in montagna dove siamo? siamo a mare siamo a lille ande sono tornata lille mamma dove sei? ma dove sei? in che porta devo andare? nella porta di brandburgo dove è che devo andare? oh uffa mi sono persa mamma ma sei qua Scemoide? vieni qua vieni subito qua faccio la festa qua ma no qua c'è il buio ho paura esce il fuoco guarda guarda che figo oh ma io sono caduta ma perché non so farlo ma che barba io cresco ciao me ne vado ok esco anch'io ma no sai bene proprio nel supercour io esco dagli hobby senti ma il papà quando ci mette? senti ma c'è una bambina ma senti adesso io adesso mi vado a nascondere allora io adesso questo aspetta mamma ferma conta dietro il coso delle ma cosa conto? mica siamo delle bambine giochiamo a nascondino? sì dai dai ma no mamma ti prego ti pergo ti prego dai io adesso costeggio tutto il parco così mamma io mi vado a nascondere ciao e dove vado qui? ah sempre allo stesso posto che braba io mi sto andando adesso faccio questo mamma io sto andando no al contrario faccio adesso non puoi più salire ops per addio mi sono incastrata mamma io mi vado a nascondere è tutto blu qui aiuto ah ecco sono uscita meno male vado sull'altalena mamma provo a venermi a trovare ma dove? ti dico che è un posto dove dove si prende Alina Alina basta non giochi a un film stop non giochi a un film ma mi sono incastrata madre Grazie.